Pilates e Franklin Method sono un connubio perfetto per ottenere un corpo forte, flessibile ed equilibrato. Il Pilates con il suo repertorio di esercizi che aiutano a migliorare la forza, la flessibilità, la postura. Il Franklin Method con le sue tecniche originali e creative basate sulla visualizzazione, sull'anatomia esperienziale, sull'automassaggio e su tutta una serie di tecniche e strategie che ci permettono davvero di mettere in connessione la nostra mente con il nostro corpo affinché si possa davvero avere una comprensione dettagliata di come ci muoviamo e di come siamo fatti. Ebbene il 25-26 febbraio, che ormai alle porte, terrò a Roma un intero weekend dedicato ad esaltare il connubio tra queste due meravigliose discipline. Quindi se sei un insegnante di Pilates o ti occupi di movimento, sei un danzatore, un fisioterapista o un insegnante di yoga, ti invito a considerare questa opportunità di crescita professionale che ti permetterà di acquisire tutta una serie di strumenti pratici che miglioreranno il tuo modo di insegnare ed incrementeranno i benefici che i tuoi allievi avranno dalle tue lezioni. Dai un'occhiata all'evento facebook dove potrai trovare tutte le informazioni per iscriverti, ci sono ancora pochi posti disponibili e sarò felice di incontrarti di persona a Roma tra qualche giorno. Ciao!